La salma di Vita Gatto è stata restituita già venerdì sera ai familiari, ma le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'incidente proseguono e la Procura della Repubblica di Sciacca ha deciso di avvalersi anche di una consulenza tecnica. I funerali della sfortunata giovane mamma che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto lungo la statale 115 nei pressi del Bivio Verdura si svolgeranno a Sciacca, probabilmente domani mattina. Vita Gatto, 31 anni, si accense, solo da alcuni anni risiedeva a Caltabellotta nella frazione di Sant'Anna dove svolgeva seppure saltuariamente il lavoro di cameriera in ristoranti e pizzerie. Aveva quattro figli, due dei quali di 3 e 6 anni sono rimasti coinvolti nell'incidente. A destare preoccupazione sono le condizioni in cui versa la più piccola, trasferita al Policlinico di Messina per le ferite riportate dove è stata sottoposta già a diversi interventi chirurgici. Il compagno della donna è stato invece ricoverato all'ospedale di Sciacca ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze a seguito dell'impatto dell'autovettura da lui guidata, una Lancia Libra, con altre due auto, una Panda e una Citroen. Sulla prima autovettura che viaggiava nella stessa direzione della Lancia Libra, ossia da Ribera verso Sciacca, c'era una coppia, mentre sulla Citroen, che arrivava dalla direzione opposta, viaggiavano due turisti tedeschi che sono stati trasferiti a loro volta all'ospedale di Sciacca, ma le cui condizioni non erano gravi. Nonostante i soccorsi, per la giovane donna non c'è stato invece nulla da fare, è deceduta sul colpo, mentre tutti gli altri feriti sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale Giovanni Paolo II. Sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sciacca, che hanno lavorato per diverse ore. Soltanto a tardasera, infatti, i mezzi sono stati rimossi dalla carreggiata e il traffico, che era rimasto paralizzato, è tornato alla normalità. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Michele Marrone, che ha anche deciso di nominare un consulente tecnico, come dicevamo, per accertare l'esatta dinamica e in che modo le autovetture, soprattutto la Lancia e la Citroen, sono entrate in collisione. Una tragedia immane che ha aggravato il già pesantissimo bilancio degli incidenti stradali che si sono verificati in Sicilia e anche nelle nostre zone nel mese di agosto. Appena due settimane fa, nella strada di Lidofiori a Menfi, a perdere la vita, è stato il piccolo Marco, di sei anni, che era in vacanza con i genitori. Grazie. Grazie. Grazie.